Dopo le dichiarazioni che ci ha rilasciato Stefano Cetica, Assessore regionale al bilancio, in merito ai disagi dei pescatori di Porto Pitocchio, ai lavori delle scogliere anti-erosioni e sulla possibilità che la Dispoli possa avere un suo porto, ascoltiamo ora la replica del Sindaco Crescenzo Paliotta. Il Sindaco pochi giorni fa ha messo un'ordinanza nei confronti di Porto Pitocchio perché lì ci sono problemi seri per tutti i pescatori che vivono con la loro economia. Siamo Cetica sostiene che questo porto non risulterebbe in nessuna pianificazione urbanistica. Forse questo Assessore dice di abitare a Dispoli ma francamente dice cose alle quali non crede lui stesso. Porto Pitocchio esiste da 30 anni, si chiama così. Vedete c'è uno strumento che è il portolano, che è praticamente la mappa dei punti di approdo di tutta Italia, è uno strumento che è obbligatorio per chi va per mare. Allora nel portolano è nominato Porto Pitocchio, quindi è ufficialmente riconosciuto dalla Capitineria di Porto. Ma che cosa si chiede di... Quindi Porto Pitocchio esiste e esiste da 30 anni. Ma che cosa chiediamo noi, che cosa chiedono i pescatori? Che sia portata via la sabbia, allora che c'è bisogno di una precisione urbanistica che è portata via la sabbia. Oppure, dicono i pescatori e diciamo noi, vogliamo fare un braccio uguale a quello che è stato fatto verso sud, alla foce del vaccino, di farne uno verso nord. Ebbene, che c'è bisogno della previsione urbanistica per fare un braccio a mare? Io sono rimasto meravigliato perché quando è stato eletto, è stato nominato assessore al bilancio Stefano Cetica, conoscendolo, gli ho mandato un biglietto di auguri dicendo che ero contento di questa nomina ed ero sicuro che la Dispori avrebbe avuto benefici da questo. E lui mi ha risposto dicendo che li apprezzava perché sapeva che io li stavo facendo con grande sincerità questi auguri. Bene, devo ricredermi perché da quando è stato eletto la Dispori non ha avuto nulla, nemmeno un euro dalla regione Lazio e quindi il suo atteggiamento sta danneggiando la città e questo me ne dispiace profondamente perché avevo stima di lui. Ecco, auguri a parte, ci sono dei problemi sempre sulla costa che non riguardano solo il porto ma anche erosione. La regione dice che i due milioni di euro non li daremo al Comune, eppure sono stati stanziati e poi dice anche sempre l'assessore Ceti che i lavori sono stati fatti male. Allora, anche qui io devo notare un'approssimazione che francamente mi lascia meravigliato. Ma come si può pensare di far credere ai cittadini che i lavori sono stati fatti in base a qualcuno che dalla spiaggia diceva metti i sassi lì o metti i sassi qui? Allora, preciso, tutti gli interventi realizzati alla Dispori che hanno portato a salvare sette stabilimenti che stavano crollando, tutti sono stati autorizzati, intanto sono stati firmati da ingegneri, sono tutti i progetti che sono stati inviati in regione, sono stati autorizzati dalla regione, poi sono stati eseguiti e sono stati eseguiti da ditte specializzate e sono stati certificati da ingegneri, non c'è nessun altro amministratore che sia mai intervenuto. Io vi faccio vedere a questo punto, questo è il mandato di pagamento per un milione e 7 che la regione Lazio aveva fatto e che è stato bloccato. Allora, chi ha fatto questo mandato di pagamento? Si tratta di tecnici della regione, era complice, quando l'assessore dice in che mani stiamo lo dovrebbe dire alla regione Lazio perché questo è un mandato di pagamento della regione Lazio che è stato bloccato, ma a parte questo, dopo questo blocco la regione ha preteso e ha chiesto una commissione tecnica, ripeto, fatta da tecnici. Uno era del nostro comune, due erano della regione, uno era dell'Ardis. Ebbene, questo è il verbale della commissione che riconosce tutti quanti i lavori fatti e poi, leggo una frase, importo totale è un milione e 6, invece di un milione e 699, invece di un milione e 671, quindi è stato ricalcolato, quindi c'è una lieve differenza, dopo aver fatto l'elenco di tutti gli interventi che sono stati quindi riconosciuti. Leggo questa frase, oltre a ciò è da evidenziare che allo stato attuale al comune di Ladispoli può essere riconosciuto l'importo pari a 674 mila relativo ai lavori ultimati dei quali è stato redatto lo stato finale certificato di regolare esecuzione. Le importi dei lavori ultimati, di quali non si è ancora possesso, dello certificato di regolare esecuzione, quindi 693, potrà essere riconosciuto solo a seguito del perfezionamento della suddetta documentazione. Ci sono tutte quante le altre certificazioni e qui ci sono le firme dei tecnici dell'Ardis e della regione. Quindi sono i tecnici della regione che dicono che i lavori sono stati fatti, che per alcuni erano soltanto da pagare, 674 mila, se stiamo soltanto aspettando il mandato e per altri dovevano essere mandati i certificati di regolare esecuzione che sono stati già mandati, ma questo è un verbale di otto mesi fa. Quindi le barriere sono state progettate da ingegneri, sono state accettate e certificate dalla regione Lazio, sono state verificate dalla regione Lazio e dall'Ardis e noi stiamo aspettando questi soldi. Posso dire che noi abbiamo rivolto la nostra, a questo punto dopo i numeri di richieste, anche alla Corte dei Conti ci siamo rivolti, perché visto che parliamo di soldi dei cittadini, il Comune di Radispori sta pagando interessi su somme che non dovrebbe pagare per colpa della regione Lazio, per colpa di scelte politiche strumentali della regione Lazio. Allora, sono stati, l'onorevole Cedica dovrebbe rivolgersi ai suoi ingegneri, quelli che hanno firmato questo verbale che dice che i lavori sono stati fatti bene. Per far capire quanta approssimazione c'è in questo intervento dell'assessore Cedica, leggo dal messaggero di oggi, è una dichiarazione virgolettata dell'assessore e quindi devo pensare che è testuale. Se andate a San Nicola scoprirete che sono stati posizionati i sassi troppo vicini al bagnasciuga, così le onde hanno finito per distruggere la strada. Ma di quale strada parla? Allora c'è un percorso che è stato salvato dalle scogliere perché il mare l'aveva distrutto, le scogliere l'hanno protetto, questo percorso pedonale, ed è stato rifatto da noi e dal consorzio di San Nicola. La strada, informo l'assessore Cedica, sta dietro le case, sta a 500 metri dal mare. Ora io non so chi sia l'informatore dell'assessore, francamente mi dispiace questa polemica perché chi poi ne paga le conseguenze è la città di Radispori che non merita questo. Noi abbiamo salvato 7 stabilimenti e voglio dire una cosa, io so quanto sia difficile intervenire a mare e quindi delle volte si possono anche fare interventi che al di là delle intenzioni non hanno risultato sperato. Ebbene l'Ardis qualche anno fa ha messo 3 miliardi e mezzo di lira di allora per fare ripascimento, quella sabbia è sparita tutta completamente ed è la stessa sabbia che sta riempiendo Porto Vidocchio e che ci sta creando problemi. Allora collaboriamo, io dico all'Ardis collaboriamo ma non facciamo i professori perché quando sono intervenuti alla Dispori qualche problema c'è stato. Per quanto riguarda ad esempio la posta vecchia, io un anno fa avevo sollecitato un intervento d'emergenza a Porto Vidocchio e la posta vecchia. La regione ha scelto di intervenire solo la posta vecchia e di questo ne siamo grati perché è un monumento importante, siamo dispiaciuti che abbia dimenticato Porto Vidocchio. Bene anche qui io invito ad andare a vedere che cosa? Che la scogliera, che probabilmente sarebbe stato preferibile fare soffolta perché davanti a una struttura storica come la posta vecchia è meglio fare la barriera soffolta come è stata fatta davanti al borgo di Palo e lì è stata fatta una scelta giusta o la villa di Pompeo e lì l'Ardis ha fatto una scelta giusta. Comunque davanti alla posta vecchia ora c'è questa muraglia che non è molto bella da vedere, comunque a 100 metri a sud verso Roma il mare sta scavando adesso, allora cosa dovremmo dire? Che non dobbiamo fare quella barriera davanti alla posta vecchia perché non si era in grado di difendere tutto? Bene il comune quando è intervenuto ha salvato 7 stabilimenti banneari, lo ripeto, che oggi sarebbero crollati. Io spero che la regione dia ai cittadini di radispoli i soldi che sono dovuti e che collabori per risolvere il problema dei pescatori. Porto Pitocchio esiste, ci sono 14 famiglie di pescatori, ci sono le bar che stanno lì, esiste da sempre e non c'è bisogno di variazioni urbanistiche per fare un braccio a mare. Ci aspettiamo che la regione intervenga presto.